Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti molto di più. Spero che un giorno l'amore che ti ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere e nel mio sguardo crescerò. Un ballo con te, nell'oscurità, stretti forte poi, a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ti ho guardato a ridere e sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Buonasera, buonasera, no, sto provando, sto vedendo se funziona tutto per dopo. Però stasera vediamo se posso farlo alle nove, invece del nove e mezzo. Ciao! Io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato. Io ti ho aspettato, tu stasera sei perfetta per me. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. No, siccome la scorsa settimana è andato tutto un po' difficile. E' questo è stato tutto gli italiani. Errico, Laura. Annelies, ok. Ok. Ehm, ben nog niet begonnen. Op advies van iemand, heb ze gezegd van ja, begin maar iets vroeger. Dus ik begin vanavond, eh, als het lukt, om negen uur. per gli italiani che mi stanno ascoltando mi hanno consigliato per gli olandesi forse un po perché loro mangiano prima insomma la serata da loro il prime time un po prima stasera invece cominciare al 9 30 comincerò alle 21 e adesso stavo un po approvando stava a vedere quindi un po per anticipare per farvi sapere che stasera ci sono ancora e ci sarà un'altra volta con tanta musica tanta musica italiana adesso fa freddo la musica romantica la musica più più intima si addisce più a questo a questo tempo va bene un bacione ci sentiamo dopo julia al malto strax om negen uur vanapoli plaats van alftien om negen uur op advies van iemand di soli 21 uur om plezier te zijn ben ik weer van jullie ja arrivederci tot strax ga eventjes nog mijn pluggies en goed doen un bacione via ma tutti ciao ciao bambina arrivederci ciao